Musica Droga e prostitute, due arresti ad Al Seno, il fulcro era un locale sulla via Emilia, in manette il titolare, coinvolte numerose insospettabili casalinghe, madri di famiglia e una minorenne. Cinque feriti nella curva della morte, scontro frontale tra due auto a San Rocco, strada chiusa per oltre un'ora, traffico in tilt, nessun ferito è grave. Seconda rapina in 24 ore, dopo le poste della Besurica, assaltata oggi la banca di Piacenza di Castel San Giovanni, nel bottino poche centinaia di euro. Casella, indagine per omicidio colposo, la procura ha aperto un fascicolo per la morte della popolare cantante piacentina, giovedì l'autopsia si sospetta un'intossicazione alimentare. Sia Piacenza e Parma no al referendum, via libera della commissione regionale al riordino delle province, il Consiglio voterà il 22, ma nel testo nessun accenno alla consultazione per andare in Lombardia. Sanatori e immigrati, un flop, 675 domande di regolarizzazione inviate da Piacenza al Ministero, 622 per la stabilizzazione di Badanti e Colf.